Salve, siete qui perché? Siamo qui perché siamo persone soffidenti, innamorate dell'amore e felici di poter scegliere con chi decidere di passare la nostra vita. Siamo amici dell'Irlanda. Bene, avete qualche dichiarazione da darci? Questa. Grazie. Splendida giornata, Marina Piccola, siete qui per manifestare? Per una performance atrale, non per manifestare, per manifestare amore, per manifestare amore per tutto il genere umano, quindi in favore di qualsiasi tipo di unione, di matrimonio, di forma d'amore. Siamo felici. Ciao. Ciao, siete qui per manifestare? Siamo qui per manifestare a favore dell'amore. Siamo Ferrari e vogliamo riempire Marina Piccola di amore e di diritti per tutti. Grazie. Grazie a te.